buongiorno ragazzi oggi ci siamo svegliati con un bellissimo tempo un po di pioggia adesso però sta più viginando quindi dai speriamo che non venga a piovere forte finché così è sopportabile adesso cerchiamo un baretto dove mangiare qui a Porto Azzurro e dopodiché ci rimettiamo in marcia ragazzi buona colazione colazione fatta e adesso riprendiamo a camminare l'inizio di questa seconda tappa che ci porterà da Porto Azzurro a Procchio in circa 20 chilometri ma dovrebbero essere molto più leggeri con meno dislivello quindi speriamo solamente che il tempo regga però nel caso siamo attrezzati anche alla peggiore delle tempeste andiamo raga praticamente adesso quello che stiamo semplicemente facendo è andare a riprendere il sentiero della gte questo sentiero che abbiamo fatto ieri per deviare dalla gte scendere a Porto a Porto Azzurro dove abbiamo dormito e adesso lo dobbiamo rifare per riprendere il sentiero madre che poi ci porterà a Procchio eccolo qua il nesto gtm si prosegue una giornata non può iniziare se non facendo un po' di fatica ce ne sta chiedendo di energia questo primo pezzo ieri facendolo in discesa non sembrava così tosto ma cazzo tira parecchio abbiamo appena incontrato un cacciatore e aveva anche la faccia gentile c'è quasi un nonno però c'è comunque non so te però un po' di disagio te lo mette addosso vedi un signore con una carabina qua insomma pensi al peggio e poi non succede niente stava cacciando delle povere lepre poverette povero tamburino ed eccoci raga ritornati all'intersezione gte riprendiamo il nostro percorso da qui siamo scesi qui abbiamo preso la deviazione per Porto Azzurro e da qui riprendiamo il nostro sentiero madre andiamo stiamo passando adesso in un villaggetto molto carino però sembra tutto un po' chiuso perché ormai la stagione alta è finita quindi tante persone magari non ci sono neanche più però è molto molto carino ci sono queste villette davvero stupende bello molto molto bello pieno di ulivi di vegetazione che bello passeggiare per questi ulivi sembra di stare in toscana ma l'isola d'elma è in toscana c'è questo rumore costante di moto da cross sottofondo ti fa dire cazzo ma adesso ne arriverà una come passerà di qua che il sentiero è strettissimo però non arriva per adesso non arriva nessuna moto speriamo qua ragazzi un po' di colori dell'autunno che spettacolo ragazzi come vi dicevo è una zona piena di cacciatori ma ne abbiamo visti tanti ma tanti di là nella pineta ole si comincia a scendere dai meno male meno male se c'è una macchina che amo ragazzi è il pandino 4x4 è bellissimo ed ecco ragazzi la vista su porto ferraio dove noi naturalmente non ci fermeremo perché andiamo dritti verso procchio qui raga c'è un ranch ah ecco il cavallo ma non l'avevo visto ciao cavallino ma chi sei? ti ha lasciato qui ah bellissimo ah ti lascio mangiare dai ciao oh ragazzi che bello oggi ci sono stati è vero due tre strappettini abbastanza importanti però oggi si va via gli isci stiamo tenendo un buon passo siamo forse a più di metà strada in due ore e mezza neanche abbiamo fatto già dieci chilometri passa dobbiamo farne circa diciannove e mezzo bello oggi oggi è così relax camminata relax non bisogna sempre fare fatica dai c'è anche un piacere nel camminare ed è qui che facciamo la nostra pausetta oh bella panchina pausettina ragazzi con il mitico rite sport con cioccolato fondente noccioli tanta roba buono eh buono sì possiamo mandare 4 barra 4 quadratini se ne mangio 8 pausetta cioccolatosa fatta adesso riprendiamo abbiamo gli ultimi 6 chilometri e mezzo di questa seconda etapa vamo abbiamo fatto tanto bosco hai ragione si è stato tanto 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 sono stati tanto in mezzo alla vegetazione abbiamo fatto meno colli rispetto a ieri ieri abbiamo fatto più colli più punti panoramici quindi a livello di vista sicuramente migliore forse oggi se ci fosse con noi un botanico sarebbe super contento perché abbiamo visto una quantità di piante esagerata eccolo qua però oggi noi sappiamo che questo è il corbezzolo questo ragazzi è un frutto di corbezzolo questo è l'alberello figata guardate qui ragazzi la potenza dell'acqua come ha scavato il sentiero assurdo qua quando piove si crea proprio un fiume qua quando piove si crea proprio un fiume cazzo casella delle poste in mezzo al nulla top ragazzi prime goccioline no good no good ci mancano 3 chilometri speriamo regga finché così è sopportabile speriamo non si metta a piovere più forte questo ragazzi è un campo da calcio cazzo sfiderai chiunque a giocare qua dentro questa erba alta ale raga come avete visto dalle immagini che ho appena fatto vedere non è una bellissima zona questa che è questa zona vicino a Procchio molto molto degrado molta non curanza tanti rifiuti non è bellissima questa zona eccoci qua ragazzi con l'intersezione sulla strada provinciale domani dobbiamo riprendere il sentiero qua e inizierà la nostra terza tappa però adesso noi scendiamo verso Procchio dove finirà la nostra seconda tappa andiamo al nostro Airbnb questo azzurro è il nostro Airbnb siamo arrivati buongiorno ragazzi allora ci siamo docciate abbiamo mangiato e quindi adesso vi faccio vedere questo spettacolare Airbnb allora questa è la nostra stanza ragazzi lasciate perdere il casino che è davvero un casino comunque qua c'è un fighissimo pescione fatto con legni portati dal mare un letto tutto quanto azzurro e poi ragazzi qua c'è una mappa fighissima praticamente dal canale di Piombino il promontorio argentario qua abbiamo la nostra mitica isola d'Elba cavo da dove siamo partiti e adesso siamo qua più o meno di qua invece c'è il mitico bagnetto raga che figata tutti questi dettagli quindi quando ho messo un remo in legno di fianco al water davvero troppo figo poi proseguendo per la casa qui usciamo allora qui la cosa figa è che c'è una rastelliera fuori da ogni porta da ogni stanza per mettere gli scarponi un altro remo qua ragazzi fighissimo qua c'è questo bellissimo manifesto queste mensoline a forma di arca qui ragazzi sono tutti quanti i pensieri che la gente è stata qui ha lasciato come ricordo e questa ragazzi è la cucina in comune fighissima cioè ma di cosa stiamo parlando qua hai tra l'altro due diciamo ripiani di frigor che puoi utilizzare altri ripiani delle varie camere che puoi utilizzare per appoggiare le robe un mega tavolone in quale si possono fare delle delle mega cene in compagnia la griglia i forni con i fornelli il lavandino quindi raga diciamo che qua abbiamo tutto per poter mangiare cucinare colazionare insomma ragazzi sta casa è fighissima ve la consiglio assolutamente venite qua a dormire da Michele e Massimo vi lascio magari il link della struttura in descrizione ragazzi siamo arrivati alla fine anche di questa giornata a dir poco stupenda cosa posso dire su questa seconda tappa della gte che sicuramente è meno panoramica rispetto alla tappa di ieri più semplice quindi con meno dislivello da questo punto di vista è anche positivo perché ci siamo riposati un po' le gambe per domani che sarà la terza tappa sarà sicuramente piuttosto di quella di oggi però ragazzi va bene così va bene così abbiamo camminato tanto abbiamo pensato tanto camminare lo dico sempre è una figata pazzesca e lo è stato anche oggi nulla ragazzi io vi saluto da l'Airbnb qui a Procchio ci vediamo domani mattina per l'inizio della terza ed ultima tappa ciao ragazzi buonanotte buonanotte